E' una realtà della vita, l'incomprensione e, perché no, anche la lotta tra i vari componenti della società di questo mondo. Sarebbe tanto bello attuare il paradiso terrestre, cioè la grande famiglia del popolo di Dio. Purtroppo l'uomo ha le sue passioni e difficilmente le tiene a bada. E quindi abbiamo che questa serenità voluta da Dio su questa terra facilmente viene saltata, viene emessa da parte e quindi vi sono le lotte, vi sono le incomprensioni tra l'uno e l'altro. Necessario allora il perdono fraterno. E' una forma bella, comoda, anche se sofferta, che riporta la serenità nella vita quotidiana di sempre. Anche Gesù è vissuto insieme ai discepoli e anche i discepoli avevano i loro difetti e quindi facilmente si punzecchiavano e facilmente c'era l'incomprensione, c'era lo screzio. E Gesù esultava a stendere la mano del perdono, a creare un ambiente sereno, a dare anche uno spunto per noi che saremmo arrivati dopo secoli. Se stai per fare l'offerta all'altare, lascia l'offerta e vai a casa tua e fai pace col tuo fratello. Quindi Gesù ci dà con molta chiarezza che prima di avere la relazione con Dio noi dobbiamo avere la relazione amorosa con il nostro fratello. Fino a quante volte bisognerà perdonare? Pietro domanda a Gesù, fino a sette volte. Gesù risponde fino a settanta volte sette. Cioè, non è che qui dobbiamo prendere la macchinetta calcolatrice e vedere quante volte dobbiamo perdonare. Cioè, Gesù intendeva dire sempre, perdonare sempre, a chi, ai nostri amici, coloro che sono della nostra famiglia, certamente bello sarebbe se spesso mariti e moglie stendissero la mano dell'amicizia e dell'amore e mostrassero a tutti che si vogliono bene. Questa è la realtà della vita, godere su questa terra quello che sarà la vita futura in cielo e il perdono fraterno ha proprio questa capacità, ha proprio questa funzione di ricreare l'armonia su questa terra ed è importantissimo questo elemento. Gesù ci porta anche una parabola di uno che aveva ricevuto da un signore 60 milioni in oro e che doveva restituire e va a piangere davanti al re e il re dice va bene e prende il registro e cassa proprio, non deve restituire più niente. Noi diremmo che uscendo dal palazzo reale questo graziato avrà fatto salte di gioia, no, non ha fatto questo. Acciuffa uno che doveva restituirlo diciamo 100 euro dammi subito il 100 euro e quello dice non ce l'ho e lo mette in carcere. E questa è l'azione che spesso si verifica nella vita degli uomini. eppure vedete siamo impastati di amore del Signore. Il grande re che cosa ha dato a noi? C'è 60 milioni in oro? No, molto di più. Ci ha dato gli occhi, ci ha dato l'udito, l'intelligenza, la volontà. Ci ha spinto a idee superiore, a desiderare di vivere con Dio. E' qualcosa di incredibile, non è che io mi posso pensare a una cosa simile ma è Gesù che ci ha educato a invocare l'amicizia paterna di Dio. Quindi allora il perdono è qualcosa di essenziale nella vita ordinaria di sempre. Dio è misericordioso ed è giurivo a perdonare. Più che a dare Dio giuisce nel perdonare. C'è il sacramento della confessione istituito da Gesù, il sacramento del perdono, perché nella vita si può sbagliare, si può offendere lo stesso Dio misericordioso. Bene, e allora c'è il sacramento della confessione. E veniamo assolto dai peccati. Bene, quanto Padre Pio confessava, spesso si verificava un fatto strano. La persona che si confessava, parlo della confessione degli uomini, che si confessava era tanto la gioia che esplodeva, che era entrata nel loro cuore, che si alzavano dall'incenocchiottoio e avvicinandosi agli altri persone che stavano aspettando il turno, cominciavano ad abbracciare tutti quanti, non si conoscevano. E questo gesto si ripetiva spesso, era tanto la gioia della confessione e quindi del perdone dei peccati che esplodevano di gioia. Anche noi possiamo sempre avvicinarci al sacramento della confessione, però teniamo presente che dobbiamo anche noi sprizzare gioia per il perdono che Dio ci dona.